Con Pablo Trincia qui al Salone del Libro in attesa delle firma copie, la prima domanda è d'obbligo, com'è questo salone e come lo stai vivendo? Bello, pieno, sarebbe stato bello se si parlasse un po' di più di Palestina, magari la prossima volta però ricordiamocelo, però insomma tanta gente, tanta curiosità, tanti giovani, tanti ragazzi, quindi sempre molto bello tornare qua. Se non muoio domani, viaggio di tre ragazzi migranti, farei un passaggio prima, un dietro le quinte, cosa ti ha spinto a scrivere questa storia? Mi sono sempre occupato di questi temi, però ho sempre parlato a un pubblico adulto, era forse arrivato il momento, visto che ho anche dei figli che iniziano ad avere l'età in cui possono leggere questi libri, era il momento di parlare anche ai giovani perché sono il vero pubblico che ci dà speranza e quindi perché no? A volte quando si parla ai ragazzi gli adulti capiscono ancora meglio? Non lo so, è una bella domanda, è una gran bella domanda, spero di sì, però intanto parliamo ai ragazzi, poi agli adulti ci pensiamo, oggi in questo momento pensiamo solo ai ragazzi. Tre storie che sono emblematiche di che cosa? Del fatto che abbiamo un potenziale enorme come esseri umani fin da ragazzi per fare cose straordinarie, anche affrontare la morte più volte, trovare sempre una soluzione, farcela e seguire i propri sogni, quindi sono tutte storie che spero proprio ispirino non solo interessi ma ispirino anche le nuove generazioni. Il bello sarebbe vedere qua qualcuno di questi ragazzi da scrittore? Qualcuno secondo me ci arriva, li coinvolgeremo sicuramente nelle iniziative, vedremo. Grazie, Pablo Trincia. Grazie.